Non trovo il mio passaporto. Possiamo inserirla sul prossimo volo? Grazie. No, 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 aspetteremo. Mi hai lasciata sola con tutti i nostri problemi. Ti stai nascondendo? Non mi sto nascondendo. L'hai perso almeno il passaporto? No. Vuoi i miei soldi? È per questo che lo stai facendo? Se vuoi che rinunci alla mia parte, lo farò. Firmerò tutte le carte. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Torni a casa con noi. Che cosa stai facendo? No. Grazie a tutti.